Buonasera amici del mio canale, mi presento a voi, mi chiamo Kusuma Cristiano, sono molto emozionato, non sono mai propenso a fare questi video, ma purtroppo mi è dovuto, con piacere che mi presento a voi. Sono un pilota droni, videometer, mi diverto tantissimo a fare i video, e adesso per la prima volta mi mostro, diciamo, a parlare con voi. Tante altre volte magari mi avete visto in qualche video che è molto per voi. Beh, che dire, io ringrazio tutti i miei iscritti, per me è un onore avere più di 800 iscritti, spero che ne saremo molto, molto di più. E niente, con questa mia breve intro, spero che riuscirò a farne altre. Vi ringrazio comunque a voi e a tutti che mi seguite, spero che i miei video vi piacciono, io lo faccio a scopo così passionale. Niente, adesso vi lascio con questo bel video che ho fatto per voi, per tutti i miei iscritti sul canale. e vi ringrazio, un bacio, ciao da Cusma Cristiano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.